Se voglio aprire un flipchat esistente, vado su File, apri, cerco il flipchat che mi interessa, lo seleziono e lo apro. Il programma aprirà il flipchat alla prima pagina, ma se io voglio vedere tutte le pagine che formano questo flipchat, vado su Visualizza, Browser, comparirà questa colonna che mi mostrerà tutte le pagine che compongono il flipchat. Io posso scegliere di selezionarne una e vederla. Se voglio inserire una nuova pagina, vado su Inserisci, Pagina, posso scegliere di inserirne una vuota prima di quella corrente oppure dopo quella corrente. Seleziono e mi apparirà una nuova pagina, su questo posso lavorare, inserire immagini, testi, video, in questo caso inserisco un test. Se voglio salvare questa pagina nuova nel browser, seleziono File e Salva. Il programma salverà la pagina nell'esatto punto in cui io l'ho inserita. Vedete? Se voglio spostare questa pagina, la seleziono e la trascino e la sposto nel punto in cui voglio che contaglia nella sequenza. Se la voglio allineare, la seleziono con il destro e il numero. Se voglio salvare il flipchat, sia nuovo che modificato, e la voglio salvare con un nuovo nome, seleziono File, Salva con nome, scelgo il nome, scelgo il nome, scelgo la directory e Salva.